Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura ci occupiamo della vicenda Rigopiano, sarà ufficializzata il 29 di novembre dal GUP Gianluca Sarandrea la riunificazione dei procedimenti relativi alla sciagura di Rigopiano, cioè il filone principale dell'inchiesta sui 29 morti nella valanga che ha travolto l'hotel e quello sul presunto depistaggio delle indagini seguenti. Ma sulla prossima data appende la possibilità di un nuovo sciopero degli avvocati. Sentiamo comunque tutti i dettagli nel servizio di Stefano Recanati. Udienza rinviata al 29 novembre alle ore 9.30, quando il GUP Gianluca Sarandrea sarà chiamato a formalizzare la riunificazione del filone principale con quello del presunto depistaggio delle indagini sulla tragedia dell'hotel Rigopiano. La decisione del GIP Antonella Di Carlo è arrivata al termine di un'udienza flash durata appena 10 minuti che ha lasciato di stucco i pochi familiari delle vittime presenti in tribunale. In più la prossima data utile potrebbe saltare a causa di un nuovo sciopero degli avvocati. Siamo scoraggiate, scoraggiatissime anzi per dire questa cosa, perché quando sarà poi? Io non me lo ricorderò, data la mia età, mio marito neppure, non lo so come andremo a finire, non lo so, un futuro incerto di questa cosa, incerto. L'avvocato Romolo Reboa ha commentato con sarcasmo la decisione di oggi. Forse, magari se il 29 novembre, se c'è un rinvio per caso per l'astenzione che sempre che la Camera Penale voglia annunciare, si potrà rinviare al 4 dicembre. Perché il 4 dicembre? Perché non il 30 novembre? Perché forse è sabato il 30 novembre, potrebbe anche essere il giorno d'udienza. L'avvocato Romolo è tornato anche sulla mancata costituzione di parte civile dello Stato nel processo contro i vertici della Prefettura di Pescara per il reato di depistaggio, mostrando alle telecamere una lettera inviata nei giorni scorsi al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Prendevo che mi aveva stupito fortemente, l'avevo detto anche nelle dichiarazioni dell'altra volta, era l'assenza in questo processo della Costituzione di parte civile da parte dello Stato nei confronti di funzionali dello Stato accusati di depistaggio. Ho pensato che fosse un problema burocratico. Oggi ho visto che non c'era, nessuno si è costituito, ne prendo atto. Come avvocato non posso riprendere atto della notizia negativa, certo mi avrebbe fatto piacere avere la Costituzione di parte civile in questo processo di depistaggio da parte dello Stato, l'avevo sentito un fatto obbligatorio, soprattutto nei confronti di queste povere famiglie, che mi viene da pensare che a questo punto sicuramente vi sia una grossa assenza da parte dello Stato, visto che la legge per Rigopiano poi non ha avuto neanche attuazione, fino a oggi è passato un altro mese da allora. Se questo processo non avesse avuto questo comitato, queste famiglie così legate e così alto, sarebbe stato uno dei tanti processi, probabilmente ritenuto per una disgrazia territoriale, per un evento imperscrutabile, cosa che non è questo processo, ma molti pensano che potrebbe essere. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo della cronaca sindacale. È stato negato l'esercizio provvisorio alla OMA, dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara. Per l'assessore regionale Mauro Febbo non si poteva fare altrimenti, mentre la Human Gest aveva già espresso l'interesse per rilevare l'azienda, interesse che conferma anche al nostro microfono. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. La OMA SPA è ufficialmente fallita. A decretarlo è stato il Tribunale di Pescara. L'azienda metalmeccanica, che in Abruzzo ha due stabilimenti, a Tocco e Castiglione da Casauria, e un centro manutenzione a bussi, lascia così a casa 330 lavoratori. Negato anche l'esercizio provvisorio, ultima speranza dei dipendenti, questa decisione ha lasciato sgomenti anche ai sindacati, secondo i quali l'azienda al momento disporrebbe delle commesse per proseguire l'attività. Non è dello stesso parere l'assessore regionale Mauro Febbo, secondo cui non c'erano i margini per l'esercizio provvisorio. C'è stata una richiesta di autofallimento, per cui è chiaro che il magistrato non poteva fare diversamente, così come non poteva fare diversamente che non autorizzare l'esercizio provvisorio, perché se un'azienda è decotta, perché negli anni produce perdite, è chiaro che continuare significa fare quello. Invece il magistrato, credo, giustamente ha voluto vederci chiaro. Tuttavia pare che già vi fossero state diverse manifestazioni di interesse per rilevare l'azienda, tra queste anche quelle della Human Gest. Noi l'abbiamo detto in tutti i modi, abbiamo mandato lettere al Tribunale, abbiamo parlato anche con la parte deligenziale della OMA, che siamo interessati in qualità di primo creditore della OMA, cioè la Human Gest oggi è il primo creditore del fallimento, quindi è chiaro che da questo punto di vista siamo sempre stati pronti a intervenire, lo abbiamo fatto anche per i lavoratori, è chiaro che ci vuole un po' più di senso, come possiamo dire, un po' di senso di onestà, perché se si lascia uno come Angelucci, che si denuncia da un lato come bancarottiere e dall'altro gli si fa gestire l'azienda negli ultimi nove mesi durante il concordato, è chiaro che si fa fatica a salvare qualunque cosa, la stessa regione che lo ammette alle riunioni, bisogna cominciare a tirare una linea, adesso speriamo che con il fallimento questa linea sia arrivata, cioè da una parte c'è il passato della OMA, dall'altra parte c'è il futuro dei lavoratori e dell'azienda. Noi al futuro dei lavoratori e dell'azienda siamo disponibili a guardare, e l'importante è che il Tribunale continui a mantenere marcata questa linea. Adesso quindi si perderanno le commesse, che passeranno ad altri fornitori, come quella della nuova Pignone, da 200 milioni di euro, si perderanno le manutenzioni e le professionalità, ma soprattutto 330 persone hanno perso il posto di lavoro, una grossa sconfitta per tutto l'Abruzzo. Presidio dei metalmeccanici questa mattina a Teramo per lanciare l'allarme su una vertenza Teramo. Nel Teramano sarebbero a rischio 750 posti di lavoro, soprattutto nel settore automotive. Denunciati anche troppi infortuni e incidenti sui luoghi di lavoro. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. 750 posti di lavoro a rischio, scarsa sicurezza sui posti di lavoro, troppi incidenti e infortuni. Si rischia una vertenza Teramo. A denunciare questo stato di cose sono i rappresentanti delle sigle sindacali teramane di FIM, FIOM e WILM, che in presidio a Teramo hanno consegnato simbolicamente alla politica locale problematiche, rivendicazioni e richieste dei lavoratori metalmeccanici. Tante le vertenze aperte in provincia di Teramo, quali in particolare? In particolare ci sono ATR di Colonnella, VECO di Martinsicuro e SELTA di Tortoreto, che sono quelle che più di altre si stanno destando preoccupazioni. Tra l'altro la SELTA è ferma al MISE, come altre 160 in Italia. Oltre queste, però, se ne sommano tante altre di aziende più piccole, dove comunque si sentono grosse difficoltà. Quali sono i dati di queste difficoltà, di queste vertenze, di questa mancanza di lavoro e di stipendi? Una nostra stima parla di 750 posti di lavoro a rischio nei prossimi mesi. Purtroppo, per come si stanno determinando alcune vertenze, quelle più importanti appunto, temiamo che 750 sia un numero sottostimato, per cui questi sono i posti di lavoro che si stanno rischiando. Ma c'è anche il settore automotive, con i 2.000 dipendenti, che comunque dà segnali di preoccupazioni legati alla crisi complessiva del settore a livello globale. E voi a chi vi rivolgete? Ma è sempre più complicato trovare un interlocutore. Da un lato il tavolo delle crisi industriali in provincia è stato dismesso, dall'altro la regione sostanzialmente è latitante, perché non si riesce ad avere un'interlocuzione concreta sulle tematiche, per cui facciamo fatica a trovare qualcuno che ci ascolti. Presenti anche le delegazioni delle storiche vertenze terramane, ATR di Colonnella, Celta di Tortoreto, Vecco di Martinsicuro, per ricordare che il settore dell'automotive nel terramano occupa 2.000 addetti e che va sostenuto perché la crisi incombe. Voltiamo pagina, andiamo a Pescara dove il Partito Democratico Cittadino continua a criticare le scelte urbanistiche del centro-destra e della giunta Masci contenute all'interno del DUP che è in discussione nel Consiglio Comunale. Per i democratici bisogna mantenere la vocazione turistica dell'ex COFA. Sentiamo il servizio. Dopo quattro mesi di amministrazione Masci a Pescara, alla prima uscita di un documento così importante come il documento unico di programmazione, si evidenzia tutta l'approssimazione per lo sviluppo futuro e sostenibile della città. Inizia così la conferenza stampa di Moreno di Pietrantonio, segretario cittadino del PD, pronto a lottare contro la proposta di cementificazione dell'area ex COFA che andrebbe a precludere ulteriormente lo sviluppo turistico di quell'area. Si qualifica soprattutto per un elemento, per il trasferimento dell'Università d'Annunzio da Viale Pindaro, dove è attualmente allocata ed è la sua sede ormai naturale, all'ex COFA, cioè quell'area che si trova davanti al Marina di Pescara che ha una destinazione turistico-recittiva da sempre e quindi crediamo che ci sia bisogno di uno sforzo, di idee in avanti per cercare di capire come realizzare lì un qualche cosa che sia a vantaggio di Pescara e anche di tutto l'Abruzzo. Da quello che noi leggiamo su questo documento che tra l'altro è anche in parte un copia e incolla, è molto superficiale e non dà una linea di sviluppo della città e quindi di farsi aiutare da tutta la politica, anche dall'opposizione, ma soprattutto andando fuori dal palazzo e cioè dall'Università, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni culturali, dalle migliori energie attive e dalle migliori menti che abbiamo in città. In particolare vorrei dire anche che c'è un lavoro da fare per cercare di capire quale dovrà essere lo sviluppo della città, sia per quest'area ma anche per altre aree. In questo documento noi vediamo che non ci sono riferimenti precisi, per esempio per l'area di risulta, dove si balbetta e si rischia di perdere l'unica certezza che sono i 12 milioni stanziati dalla regione Abruzzo guidata da Luciano D'Alfonso oppure l'altra area importante in riva al mare, l'ex Enaip, non si capisce ancora cosa vogliono fare. Quella è una cosa che non va fatta e noi faremo una petizione in città contro la cementificazione dell'ex Cofra. Ci sembra di rivivere l'impostazione della passata giunta Arbore Mascia bocciata dai cittadini nel 2014 che tutti, ricordiamo, per l'enorme debito lasciato mettendo a rischio il fallimento per il comune, conclude Moreno di Pietrantonio. Andiamo avanti, la regione Abruzzo ha presentato oggi un progetto che riguarda gli interventi sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni invernali di Passo Lanciano e Mamma Rosa, interessati anche i comuni di Serra Monacesca, Rocca Morice e Pretoro. Previsto un impegno finanziario iniziale di 20 milioni di euro e i lavori partiranno nell'estate del 2021. Vogliamo spiegare come sarà questa riqualificazione del comprensorio di Passo Lanciano e Mamma Rosa? Che cosa accadrà? Come verranno utilizzati questi 20 milioni di euro? Innanzitutto l'obiettivo primario è quello del collegamento dei sottobacini di Passo Lanciano e Mamma Rosa che rappresentano la questione nodale per poi poter affrontare ai diversi livelli le altre questioni che chiaramente restano aperte su una stazione turistica non la definisco semplicemente scistica turistica in senso lato che chiaramente ha dei problemi ha delle grandi potenzialità ha dei problemi quindi l'aspetto pregnante innanzitutto è partire da quello che potrebbe essere un punto di debolezza ossia la presenza del parco come elemento invece di valorizzazione della stessa proposta quindi creare le condizioni per poter avere uno sviluppo sostenibile ma al tempo stesso creare un moltiplicatore di offerta turistica non solo per la stagione invernale ma anche per la stagione estiva quindi aprendosi a tutte quelle che sono le attività che si sviluppano ripeto non solo d'inverno Lavori partiranno dovrebbero partire nell'estate del 2021 quanto dureranno? Allora i lavori questa è una previsione che sta facendo la regione mi sembra una previsione credibile chiaramente abbiamo un quadro autorizzativo che è complesso per le ragioni che vi ho detto ci troviamo ad operare a differenza di altri comprensori pensiamo a Roccaraso in area totalmente sottoposta al vincolo di parco nazionale in area con numerosi SIC siti di interesse comunitario e quindi ci sono diverse procedure che però ritengo che si possano esploitare rapidamente perché fin dall'inizio abbiamo creato una siergia stretta con l'ente parco e abbiamo con loro un rapporto di implementazione progettuale continuo A tre anni dal sisma che ha cambiato la vita di migliaia di persone nella provincia di Teramo e non solo il sindaco Gian Guido D'Alberto esprime grande imbarazzo nel constatare una ricostruzione mai iniziata gli sfollati sono ancora 4.000 i quartieri colpiti sono in stato di abbandono e muoiono lentamente sentiamo il servizio è con imbarazzo che il primo cittadino di Teramo Gian Guido D'Alberto interviene in occasione del terzo anniversario dal sisma del 2016 che ha cambiato per sempre la vita di migliaia di cittadini del capoluogo e dell'intera provincia dopo tre anni sostiene in una nota il sindaco il tempo sembra essersi fermato a Teramo così come nelle zone colpite del centro Italia la ricostruzione è praticamente bloccata mentre i paesi muoiono ad oggi non è possibile fare pronostici su quanto tempo servirà per ricostruire gli alloggi danneggiati e comprensibilmente gli sfollati teramani quasi 4.000 sono completamente sfiduciati le citre della non ricostruzione sono inesorabili quella pubblica è lentissima in parte in fase di progettazione mentre per quella privata sono pochi casi risolti purtroppo dopo tre anni ci troviamo ancora a fare i conti con leggi e burocrazie che ostacolano e rallentano gli interventi continua Gianguido D'Alberto sarebbe stata necessaria una legge speciale ed invece abbiamo un insieme di norme ordinarie è il fatto che non si è tenuto conto che la ricostruzione non prescinde dalla ricostituzione delle comunità le quali senza lavoro non esistono un grido di allarme fortissimo quello del sindaco Teramano che ha chiamato a raccolta il tavolo di coordinamento per la ricostruzione chiedendo a gran voce la presenza di tutti i parlamentari del territorio la proposta è quella di intervenire con modifiche legislative che finalmente siano realmente in grado di sburocratizzare il percorso della ricostruzione consentire alle nuove attività imprenditoriali di beneficiare di vantaggi contributivi e detassazione e avere garanzia dei finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è ancora terminata la via verde della costa dei trabocchi che già spuntano nuove piante infestanti nell'asfalto nero dopo le canne e l'equiseto a bucare la pavimentazione appena stesa vediamo il servizio via verde che nei tratti già asfaltati non manca di successo complici le belle giornate luogo ideale per chi passeggia ciclisti chi pattina il moderno hoverboard podisti nell'anarchia totale ovvia conseguenza di un percorso non ancora completato manca la resinatura manca la segnaletica che indicherà le corsie e gli spazi destinati a bici e pedoni in settimana hanno preso il via i lavori di posa del cemento armato sui tratti più fragili e a rischio idrogeologico mentre le gallerie saranno bonificate dalle infiltrazioni d'acqua illuminate ecco però i nuovi intrusi dopo la comparsa di germogli di canna dal morbido bitume spuntano gli equiseti una specie robusta e tenace appartenente alla famiglia delle equisetacee conosciute comunemente con il nome di code di cavallo i semi producono fusti di dimensioni comprese tra i 20 centimetri e il metro e mezzo l'asfalto è stato letteralmente frantumato e dunque il rischio di danni continui provocati dalle specie invasive è confermato andiamo avanti per il 4 di novembre carabinieri esercito guardia di finanza e marina saranno tutti uniti per celebrare l'unità nazionale e le forze armate alla caserma pasquali dell'Aquila in mostra ci sono le attività degli alpini Daniela Rosone un gioco di squadra per la festa del 4 novembre festa dell'unità nazionale e delle forze armate si presentano insieme esercito guardia di finanza marina militare e carabinieri con tante iniziative ma soprattutto con le caserme cittadine che saranno aperte alla cittadinanza un ruolo molto importante lo avrà la caserma Pasquali che mostrerà tutte le specialità degli alpini del nono reggimento in un'esperienza interattiva per grandi e piccini con quattro aree tematiche non vuole essere solo una giornata in cui i cittadini possono entrare in caserma e vedere cosa c'è oltre le mura che normalmente sono chiuse ma potrà vivere anche un'esperienza che vuole essere interattiva e coinvolgente avremo quattro aree tematiche dalla storia all'area capacitiva alla possibilità di provare l'ebbrezza di una palestra di rampicata e vedere le nostre squadre soccorso fare delle attività altamente specialistiche perciò una giornata che vuole essere coinvolgente che vuole essere aperta a tutti e speriamo veramente ci sia una grande risposta da parte degli aquilani Un esercito che è sempre più aperto anche alla cittadinanza un modo per mostrare poi il lavoro che voi portate avanti quotidianamente che è fondamentale per la popolazione questo rafforza un po' il legame che nel caso del nono alpini è già stretto con la città però non fa altro che risuggellare diciamo un'amicizia Assolutamente sì l'esercito fa molto bisogna che fare vedere che far capire al cittadino qual è lo sforzo che viene fatto ogni giorno noi ci siamo noi ci siamo sempre nel moto dell'esercito e il 4 novembre vogliamo esserci ancora di più e vogliamo soprattutto che ci siano un sacco di aquilani a vedere quello che facciamo ogni giorno A Lanciano Open Fiber sta cablando la città con la fibra ottica in questi giorni tanti piccoli cantieri sono aperti nelle strade del centro città vediamo Lavori in corso nel centro città con operai e mezzi della Open Fiber dedicati alla sistemazione della fibra ottica col cablaggio totale di ogni singola unità abitativa per tutto il mese di novembre i lavori interesseranno circa un chilometro di strade comunali tutte centralissime poi seguiranno le altre zone di Lanciano con la conclusione dell'opera prevista per la fine del 2020 ovviamente saranno servite anche le 33 contrade si tratta di un servizio prezioso visto che il cavo in fibra ottica non solo permette una trasmissione di dati più veloce e fluida rispetto al cavo in rame ma non perde di efficacia nella lunga distanza in merito ai lavori molti cittadini però si sono allarmati temendo che le strade e i marciapiedi possano essere lasciati dissestati o danneggiati la open fiber invece una volta ultimati definitivamente i lavori dovrà ripristinare lo stato dei luoghi in tutte le zone interessate in particolare sulle strade che sono state rifatte più di recente sarà riasfaltata l'intera carreggiata invece dove non ci sono stati lavori recenti potrà essere ripristinato il manto stradale solo in uno spazio interessato dallo scavo generalmente per 50-60 cm nelle strade più trafficate inoltre in particolare in via del mare via per Fossacesia è stato raccomandato l'uso della tecnologia NODAIG ovvero senza scavo con la posa di cavi interrati senza dunque ricorrere allo scavo a cielo aperto ovvio che sulle strade dove il comune ha previsto il rifacimento dell'asfalto si interverrà prima con la posa della fibra ottica centinaia di chilometri di cavo anzi migliaia di chilometri di cavo verranno posati nella città però alla fine il vantaggio sarà notevole per tutti quanti per tutti gli utenti insomma e siamo così arrivati alla pagina dello sport che apriamo parlando di calcio e di serie B Pescara che sabato pomeriggio tornerà all'Adriatico Cornacchia per dimenticare il passo falso di martedì sera a Castellammare di Stabbia una battuta d'arresto dolorosa per i biancazzurri e per la quale non ci sono alibi come ammette anche il centrocampista Massimiliano Busellato che ascoltiamo nell'intervista registrata da Paolo Renzetti nel dopogara contro la Juve Stabbia una sconfitta figlia anche di qualche errore arbitrale lo possiamo dire un rigore netto per il Pescara non dato nel primo tempo in occasione del gol del 2-1 alle Juve Stabbia c'era un calcio d'angolo per voi avete protestato soprattutto Bettella ha protestato ma l'arbitro ha segnato la rimessa non deve questo rappresentare un alibi però gli errori arbitrali ci sono stati inutile appellarsi a questo cadremo nel ridicolo gli errori li facciamo noi li fanno anche gli arbitri purtroppo oggi arriviamo sempre a secondi nelle seconde palle nei contrasti loro andavano più forti di noi quindi c'è da lavorare tanto c'è da capire gli errori e lavorare possiamo dire che avete sofferto un po' la velocità della Juve Stabbia ma anche questo campo un po' più piccolo e questo clima molto caldo e anche il sintetico qui del Menti tutta una serie di fattori che messi insieme vi hanno creato qualche problema questo non è uno stadio facile per tanti motivi ma ripeto è inutile veramente appellarsi a queste cose lo sapevamo che era così bisognava forse dare qualcosa in più sotto il piano dell'agonismo per contrastarli Un passo indietro rispetto alla gara con il Benevento però? Assolutamente sì il Benevento ha fatto una gara quasi perfetta oggi oggi no oggi abbiamo perso e dobbiamo assolutamente riguardare gli errori il prima possibile e cercare di lavorare su quelli Una partita che ha detto cosa cosa di altro rispetto alle precedenti e che insomma questo campionato è un campionato equilibrato giocare con la prima o con l'ultima o con la penultima cambia poco? Sì assolutamente hanno detto prima che probabilmente in questo momento soffriamo meno le squadre con più qualità rispetto a quelle che hanno più agonismo però c'è da lavorare tanto Parliamo anche di qualche lato positivo Bussellato da qualche settimana è diventato un titolare inamovibile di questo Pescara avevi iniziato con tanta panchina questa stagione ora sei invece titolare Ma sì diciamo che sono a disposizione del Minister cerco di lavorare sempre al meglio poi lui fa le scelte sono contento in questo momento di aver trovato continuità devo cercare di meritarmi sempre il posto settimana super settimana Sabato prossimo si torna all'Adriatico con il Pisa la terza gara sulle ultime quattro in casa bisognerà cercare di sfruttare nuovamente il fattore Adriatico Assolutamente è una gara importantissima oggi dovevamo essere bravi a non perdere non ce l'abbiamo fatta adesso fortunatamente fra quattro giorni si rigioca subito è importante bisogna fare una grande gara adesso andiamo in Serie C momento positivo in casa Teramo dopo le tre vittorie con Paganese Virtus Francaville e Casertana ora come ammette anche il centravanti Simone Magnaghi ci vuole equilibrio per affrontare il Bisceglie Domenical Bonolis e l'attaccante ex Pordenone poi stila anche una particolare lista di preferenze dei migliori attaccanti del Girone C sentiamo l'intervista è un clima di assoluto equilibrio nel senso che non eravamo dei fenomeni cioè non eravamo scarsi dieci giorni fa e non siamo dei fenomeni nemmeno oggi equilibrio analizziamo errori e cose positive in modo da da lavorarci meglio visto che abbiamo qualche settimana un po' più lunga rispetto a tutti questi turni fra settimanali che abbiamo avuto e possiamo lavorare anche sull'aspetto fisico che magari non si poteva caricare tanto e penso che la parola più giusta da utilizzare in questo momento sia equilibrio penso che partite semplici non ce ne siano anche perché abbiamo visto altre squadre che magari sulla carta non hanno un nome importante o una storia importante andare su campi di squadre costruite per vincere e creare comunque grattacapi penso che sia una partita da preparare con assoluta concentrazione nei minimi dettagli come abbiamo sempre fatto consapevoli anche del fatto che è una partita che giochiamo in casa visto che la gente ci sta spingendo in una maniera importante e abbiamo trovato degli equilibri importanti da sfruttare e da cercare di portare a casa altri tre punti ma ho sempre giocato gran parte da solo in carriera a Pordenone ho giocavo 4-3-3 a Venezia 4-3-3 a Cremona 4-3-3 Taranto 3-4-3 4-3-3 è un modulo che mi piace parecchio beh sì è un periodo che ci farà capire anche di che pasta siamo fatti dal punto di vista nervoso perché sono partite che dal punto di vista della concentrazione dell'attenzione magari in settimana si preparano anche abbastanza facilmente sai vai a giocare a Bari 15-20 mila spettatori però secondo me è meglio ragionare una partita alla volta ho avuto la fortuna di allenarmi con Mari Lungo quando Atalanta ha fatto diciamo il passaggio tra la società Ruggeri e i percassi e mi aveva impressionato poi la sfortuna qualche infortunio di troppo lo ha buttato nella categoria più basse penso di aver visto un giocatore di una categoria incredibile Antenucci l'ho visto solo su Sky penso siano quelli Denis mi pare ho il primo o il secondo anno che facevo sette giorni dell'Atalanta lui era appena arrivato i tifosi la gente avevano qualche dubbio su di lui mi sono allenato dal vivo un animale incredibile Corazza mi ricordo che ci affrontiamo da quando siamo alti così quindi sono sono qua i Denis Mari Lungo e Antenucci penso anche per quello che hanno dimostrato in categorie importanti sono i migliori il TG6 termina qui io vi ringrazio per averci seguito prima di salutarci vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con Velo ultima puntata per la stagione 2018-2019 per la trasmissione condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabbottini dove chiaramente si parla di bici e di tutto quello che ruota attorno al mondo delle due ruote grazie ancora vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi